Le prossime ore Luigi Di Maio, mister congiuntivo, farà una conferenza stampa sulle dichiarazioni rese da un testimone occulto, cioè una persona che non ha avuto il coraggio neppure di mettersi la faccia, durante la trasmissione report e sul fatto quotidiano. Oggi esiste Renzopoli, che è un sistema di potere che probabilmente dal punto di vista giudiziario non è neanche codificato, in cui astrattamente la tangente potrebbe essere l'unità. Chiedo di mettere molta attenzione su quello che dirà Luigi Di Maio, mister congiuntivo, anche perché negli ultimi tempi mi sembra che stia sbagliando troppe cose. Io compro l'unità, ma in realtà perdo soldi e tu poi tramite l'eni mi fai entrare in un consorzio in Kazakistan per qualche appalto, tramite un viaggio in Iran, insieme a Eni, insieme ad Enel, insieme a Ferrovia dello Stato, ti porti anche l'amministratore delegato dell'unità che rappresenta il gruppo Pessina, perché è questo che ipotizza report. Ebbene, io capisco il nervosismo di Di Maio, mister congiuntivo, lo capisco bene, perché finalmente quello che vi avevamo promesso, cioè un esposto sui profili fiscali e soprattutto penali che riguardano il blog di Beppe Grillo, è pronto. E credo che nei prossimi giorni ne vedremo delle belle. Grazie a tutti.